Sì, ripartendo dal segno del sagittario, ecco un segno che in questa giornata si sentirà un po' costretto, un po' prigioniero i sagittari si lamenteranno del fatto che non possono fare quello che avevano in mente ma io avevo programmato di andare al centro commerciale, ma io avevo programmato di andare a pranzo fuori o a cena fuori e purtroppo magari i vostri programmi saranno in qualche modo boicottati da circostanze che dovrete comunque sapere anche accettare possono avere a che fare con i vostri familiari, non so, c'è il bambino che ha un po' di febbre, ha raffreddore e sarete costretti a rimanere in casa, oppure c'era quell'impegno preso con la suocera, con la mamma, eccetera insomma, cercate di adattarvi un pochettino alle circostanze, è chiaro che questo vi farà sentire un po'